Stava provando ad attraversare a piedi la statale adriatica nei pressi di Cattolica quando era buio e pioveva, questo almeno secondo una prima ricostruzione della vicenda da parte della polizia stradale. L'uomo, un 38enne, è stato centrato da un furgone e l'impatto gli è stato fatale. L'episodio si verifica attorno alle 21.30 di domenica nel tratto di SS-16 che corre subito fuori dalla regina nel riminese. Piove forte a quell'ora e in quel punto, come mostrano queste immagini, l'illuminazione stradale è assente. Non si sa che cosa abbia portato il 38enne ad avvicinarsi al ciglio di quella strada pericolosa, specie di notte. A un certo punto, sempre in base alle prime informazioni, la vittima prova ad attraversare l'arteria. Uno scatto che non gli è però sufficiente a schivare un Ford Transit che stava sopraggiungendo da sud e che viaggiava verso Rimini. L'uomo viene caricato sul cofano e sbalzato sull'asfalto dove perde i sensi. Sul posto giungono immediatamente le ambulanze che provano a rianimarlo, ma poco dopo i medici ne constateranno il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della stradale che stanno provando a ricostruire la dinamica dell'incidente.